Le Marche non rischiano la zona gialla, le Marche sono un luogo sicuro per chi vuole trascorrervi le vacanze durante quest'estate. Due concetti blindati dal presidente della regione Marche Francesco Acquaroli che nelle ultime ore è voluto pubblicamente intervenire per sedare sul nascere allarmismi ingiustificati per qualche non influente numero di contagi lievemente superiore alla media nazionale. Cifre che restano però abbondantemente al di sotto della soglia della perdita dello status di zona bianca per la regione Marche. Di contro l'allarmismo sulla variante delta nelle Marche amplificato da una maldestra cassa di risonanza nazionale sta producendo già effetti dannosi come quello di diverse disdette registrate nelle strutture alberghiere regionali per il timore di contagi. Il rischio di ritorno in zona cialla per la regione Marche è in questo momento assolutamente infondato. I numeri che ci consegnano i servizi statistici e che sono previsti dalla normativa nazionale sono chiari. Se per il ritorno in zona cialla occorrono 50 positivi settimanali su 100 mila abitanti e se la media nazionale è di 11, noi siamo a 14, una distanza di sicurezza che in questo momento esclude questa ipotesi. Assolutamente sotto controllo ha anche il ricovero ospedaliero. Abbiamo ricoverati per covid nelle nostre strutture 10 unità e si tratta anche di una grande azione di tracciamento quella che abbiamo messo in campo con oltre 3 mila tamponi giornalieri per cercare di isolare i casi che si sono registrati. È un'azione importante fatta proprio per mettere in sicurezza la stagione estiva. È fatta per consentire di lavorare a tutti quegli operatori nel mondo del turismo, nel mondo della ristorazione, nel mondo della recettività che hanno visto compresse le loro possibilità di lavoro nei mesi autunnali, nei mesi invernali, nei mesi primaverili. Oggi l'arramismo non ci pare assolutamente ingiustificato ma ci pare addirittura controproducente perché andiamo a limitare, a potenzialmente interdire la possibilità di ripresa che invece sarebbe possibile non solo per i numeri ma per una stagione che tutti noi aspettavamo, aspettiamo con ansia per poter appunto consentire a chi è stato oggioso oggi di lavorare e rimettere in sicurezza le proprie attività.